Da viaggio provvisorio di Marcello Ceccarelli, i compagni ci sarebbero, ma ognuno di loro è soltanto un piccolo universo isolato, che non è più nemmeno capace di chiedere aiuto. Ricordo la frase di uno scrittore, l'uomo è un animale politico, se non fa politica è un animale e basta. Non fare politica significa isolarsi dalla storia umana, dal linguaggio umano, restare in una soffitta popolata solo da gatti randagi, possedendo una velegetta piena di stracci e di vecchi ricordi. Il sindaco di San Gimignano faceva il cameriere al festival, non so, io non lo so, forse un compagno, ma basta avere letto mille pagine di Marx per poi credersi già. Siamo compagni, se poi ritorni stanco da una manifestazione, fai togliere le scarpe da tua moglie. Non so, io non lo so, se sei un compagno. E basta dare un voto, iscriversi a un partito, per poi credersi già per i compagni. E allora chi ha capito cos'è un vero compagno, lo urlio o me lo dica in corretto. Io quando che il problema non sia dirsi compagno, ma sia al costruire l'uomo nuovo, ma sia al definire l'uomo nuovo.